Adesso però è il momento di chi? Della nostra dispensatrice di bellezza, la storica dell'arte con il pennello, la brava e affascinante Maria Onori. Dove sei Maria? Ciao Marcello! Dove sei? Oggi sono a Dasti, a Palazzo Mazzetti, una dimora signorile, interamente decorata di stucchi e di affreschi che dialogano tra di loro e raccontano ovviamente una storia. Ma è tutto d'oro? Ad oggi è la sede della Pinacoteca... Eh, d'oro, sì e no, ma ci arriviamo piano piano. Prima ti racconto un po' di storia. Ad oggi è sede della Pinacoteca Civica, dove, passeggiando nei due piani di esposizione, potete scoprire tutta la storia dell'arte astigiana del 500 al 900. Ma che meraviglia! Ma io mi trovo in un... Eh, hai visto dove ti porta Maria? Io mi trovo in un luogo estremamente particolare e importante all'interno del palazzo, la cosiddetta Galleria d'Onore, la galleria che viene costruita a partire dal 1722 per rappresentare e manifestare pubblicamente ai visitatori l'importanza e la gloria della famiglia Mazzetti. Ti dicevo che la nostra decorazione inizia nel 1722 ad opera di Antonio Catenazzi, che si occupa di scolpire e creare i busti degli imperatori romani che si trovano su tutto quanto il perimetro della sala e rappresentano ovviamente un passato glorioso, un qualcosa di straordinariamente importante da un punto di vista anche sociale. La decorazione va avanti, non si ferma, siamo nel 1728 quando Marsilio Roncati di Meride interviene anche lui nella decorazione a stucco e tieni in mente la parola a stucco. La segno, la segno. E, bravo, e si occupa di concludere appunto la decorazione a stucco dorato con delle scene veramente particolari sia del mondo contadino che della commedia dell'arte e anche, Marcello mio caro, questo facci caso, si tratta di delle colonne che non sono vere colonne, queste qua che vedo vicino a me. Ma, prima di parlare dello stucco e di lasciarti con due paroline anche sulla decorazione parietale della parte del soffitto, io invito Andrea Rocco, che è conservatore qui a Palazzo Mazzetti ed è anche responsabile della Fondazione Museo di Asti per raccontarci cosa possiamo fare noi ad Asti se vogliamo una panoramica sulla storia della città. Ciao Maria, sì, Palazzo Mazzetti è al centro del sistema integrato dei musei, quindi qui si compra un biglietto unico, lo Smartique, che dà accesso a tutti i musei, ai monumenti medievali della città, quindi comprando lo Smartique il visitatore potrebbe fare un percorso nella storia di Asti, dall'orpeca romana fino all'Ottocento. di segnare, quindi ci possiamo vedere tutto quanto. Grazie mille Andrea. Maria, prima di proseguire, però ti do a chiedere una cosa. Ma l'eleganza del luogo ti ha fatto obbligatoriamente essere elegantissima anche a te? Complimenti. Ma certo Marcello, grazie. Ho deciso di indossare la giacca proprio per Palazzo Mazzetti. E prima di lasciarti ti volevo raccontare soltanto due cose sulla decorazione della volta. Qui vengono rappresentati sia la gloria della famiglia Mazzetti, quindi la glorificazione della famiglia, che è un avvenimento storico che viene celebrato, siamo nel 1727 e Carlo Emanuele III di Savoia, all'epoca re di Sardegna, ma futuro re di Piemonte, visita Palazzo Mazzetti. E quindi decidono di omaggiarlo. Ti ha risegnato Stucco? Stucco! Stucchi! Molto bene, perché tutta gran parte di quello che noi abbiamo visto della decorazione delle pareti, quasi tutto di quello che noi abbiamo visto in oro, in realtà non è oro, non si tratta di colonne di marmo, ma è proprio Stucco. Che cos'è lo Stucco? È un materiale di costruzione, diciamo. Da un punto di vista di composizione è calcespenta insieme a polvere di marmo. Però, attento Marcello, devi fare una bella distinzione tra lo Stucco, che si dà una bella mano di Stucco nell'edilizia contemporanea per nascondere, che ne so, il legno grezzo o il calcestruzzo. In questo caso siamo di fronte a quello che è una vera decorazione parietale di arte. Si fingono i materiali, diventano materiali diversi. Noi vediamo del marmo che non lo è, vediamo dell'oro che non lo è. E tutto questo è grazie agli Stucchi. Grazie Maria, la magia dell'arte! Grazie Marcello! Grazie a tutti!